So che c'è un argomento che tanti di voi stavano fremendo per avere sul canale ed è la termodinamica Eh sì, su questo canale dal punto di vista della chimica generale c'è più o meno tutto con una grande eccezione, la termodinamica E allora eccoci qua finalmente per colmare questo buco a grandissima richiesta Vi avviso che sarà una serie di video abbastanza lunga perché cercherò di entrare nel dettaglio ma sempre cercando di essere preciso e soprattutto cercando di essere semplice e comprensibile Per cui non perdete nemmeno uno ma non scoraggiatevi Sarà lunga ma arriveremo in fondo e ci arriveremo assieme Dunque oggi cerchiamo principalmente di capire cos'è la termodinamica E soprattutto cos'è la termodinamica? Chimica Anche i fisici fanno termodinamica A questo proposito c'è il canale del Cuso di Marco Coletti La fisica che non ti aspetti nel quale troverete tanti video di termodinamica visti dal punto di vista proprio dei fisici Noi invece siamo chimici Ovviamente i tre principi, come vedremo più avanti, sono sempre gli stessi Ma il modo di interpretarli, di utilizzarli è molto diverso Allora, cominciamo chiedendoci che cos'è la termodinamica La termodinamica è la scienza che studia come si trasforma l'energia Perché è interessante per noi chimici? Perché tramite la termodinamica possiamo capire se certi processi chimici possono avvenire Se non possono avvenire In quali condizioni possono avvenire? Quale può essere la migliore condizione? Pensate a quanto può essere importante avere questo tipo di conoscenza Per esempio a livello industriale Se dovete sintetizzare per esempio l'ammoniaca, che è uno degli esempi classici Andare a capire a quale temperatura, con quale catalizzatore, in quale... Sono tutti piccoli dettagli che su larga scala, parliamo di tonnellate, tonnellate, tonnellate Fanno veramente la differenza Ma anche lo vedrete, la termodinamica è fondamentale per capire tutti i processi chimici che ci circondano In effetti ciò che cercheremo di capire in questa serie di video è proprio Perché avviene una reazione chimica in certe condizioni Prendiamo per esempio una reazione a conoscere tutti quanti È quella di idrogeno e ossigeno per dare acqua 2H2 più O2 che dà 2H2O Oppure H2 più un mezzo O2 che dà H2O Dunque, questa reazione sappiamo che procede dai reagenti verso i prodotti Ovvero sia se voi prendete un recipiente e lo riempite di idrogeno e ossigeno Basta una scintilla e loro reagiscono per formare dell'acqua Al contrario però l'acqua non si scinde Normalmente, in condizioni normali, non torna a essere idrogeno e ossigeno La reazione va tutta quanta in un verso Da idrogeno e ossigeno a acqua Perché? Per quale motivo? Se avete già visto i video sull'equilibrio chimico Sapete che ci sono delle reazioni che sono tutte spostate verso destra Come questa Altre reazioni invece sono equilibri Per cui la reazione diretta è paragonabile a quella inversa Come facciamo a saperlo? In base a cosa possiamo dire Questa reazione va tutta una parte o tutta dall'altra? Ovvero sia Nell'esercizio dell'equilibrio La K, la costante di equilibrio, la conoscevamo già O dovevamo trovare delle date Ma Se io vi do una reazione totalmente a caso Come possiamo fare per capire Da che parte va? E' qui che entra in gioco la termodinamica Dobbiamo però stare attenti a non confondere La termodinamica chimica con la cinetica chimica Ovvero sia Ci sono delle reazioni che sono spontanee Ma molto molto lente Per esempio La benzina Se Prendete una scintilla Ci buttate un fiammifero Una miscela di benzina e ossigeno Sapete che prende fuoco Prende fuoco Si forma un'andertia carbonica Si forma acqua E basta Quindi la reazione E' andata da sinistra verso destra Ed è raggiunto Andata a completezza Sicuramente I prodotti di combustione Non reagiscono tra di loro Per tornare a essere benzina Eppure la benzina normalmente è stabile Potete andare al distributore Fare benzina Siete all'aria aperta C'è tutto l'ossigeno che volete Se la termodinamica ci sta dicendo Che la benzina dovrebbe reagire con l'ossigeno Per prendere fuoco Quindi per bruciare completamente Come mai non lo fa senza la scintilla? A questa domanda risponde La cinetica chimica La cinetica è un'altra disciplina Della chimica Che studia la velocità Con la quale avvengono le reazioni Quindi dobbiamo fare attenzione Il fatto che noi non vediamo avvenire una reazione Non vuol dire che Termodinamicamente Qui la reazione non sia favorita Anche la carta E qui Quella riguarda un bel foglio di carta Bello qui Non brucia Eppure Termodinamicamente Lo stato più stabile Ne parleremo spesso Di stati stabili e stati instabili Lo stato più stabile sarebbe La carta che brucia E che quindi diventa Nelete carbonica e acqua Eppure non lo fa Questa è la grande differenza Tra cinetica e termodinamica Quindi mi raccomando Non confondete le due cose La termodinamica non ci dice nulla Sulla velocità della reazione Non ci dice nulla Sul catalizzatore Che dobbiamo utilizzare Per esempio Ci dice solamente Questa reazione In certe condizioni Di temperatura Di pressione Termodinamicamente Avrebbe Come stato più stabile Questo Per cui E' un equilibrio E' tutta sposta da verso desa E' tutta sposta da verso sinistra Basta Non ci dice Con che velocità procede Quindi per oggi ci fermiamo qua Questa era giusto Una breve introduzione Per farvi capire Cosa è la termodinamica E cosa studia Entreremo nel vivo del discorso Dal prossimo video Ma nel frattempo Riflettete bene Su quello che ci siamo detti Perché sembrano banalità Ma sono Questi concetti Sono spesso Un pochino Complicati Da intuire bene E sono spesso Causa di confusione Per cui Fateci bene Attenzione Se avete dubbi Ovviamente Sapete Potete Scriverlo giù Nei commenti Nel frattempo Se vi fa piacere Vedere questi video Volete continuare a vederli E vorrete Sostenermi Potete farlo Acquistando Tutta questione di chimica Il mio libro Appena pubblicato Appena Ormai è passato un anno Pubblicato Con Giunti È un libro Che sono sicuro Vi potrà Piacere Lo trovate In libreria Lo trovate Online Lo trovate ovunque Quindi Se vi fa piacere Questo canale Se vi Fa piacere Sostenermi Compratelo Io vi ringrazio Per essere stati Qui con me Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao